Concessionari all'auto, a Montagna in Valtellina e a Delebio. Un sistema di piste ciclabili unificato e continuo, in grado di collegare Valtellina, Valchiavenna e Lago di Como. Il progetto, che coinvolge ben 11 partner sparsi su tre province, è quanto mai ambizioso, ma la convenzione che lo trasformerà in realtà è stata sottoscritta questa mattina, presso la sede della comunità montana di Morbegno. Dei 3 milioni e mezzo di euro necessari alla realizzazione delle infrastrutture, i due e mezzo verranno erogati da Regione Lombardia, mentre i restanti saranno suddivisi tra i vari enti coinvolti, che hanno deciso di investire sulla mobilità slow e sul turismo ecosostenibile. I lavori partiranno tra poche settimane, con l'installazione di 11 fontanelli, per i quali sono stati stanziati 145 mila euro lungo le piste ciclopedonali. Il restauro del fabbricato nell'isola sull'Adda costerà invece 305 mila euro, mentre la realizzazione del collegamento tra il sentiero Valtellina e il sentiero del Viandante, a Piantedo, riceverà uno stanziamento di 300 mila euro. Altri 450 mila euro sono stati previsti per il completamento del collegamento intervallivo a Dubino, tra la località Casello 7 e la statale Regina. L'intervento maggiore è però quello destinato alla passerella sull'Adda, tra Colico e Giralario, che verrà finanziato con 2 milioni e 300 mila euro.